Buongiorno a tutti, vorrei parlarvi molto brevemente sul fatto che indubbiamente l'applicazione di un apparecchio fisso, soprattutto poi i primi giorni, indubbiamente comporta alcuni disagi. Quali sono questi disagi a cui tutti i pazienti è bene che vengono preparati? Un primo disagio che comporta conseguenza dell'applicazione di un apparecchio ortodontico è che diventerà necessario prestare attenzione al cibo che viene introdotto nella dieta. Approfondiremo meglio questo argomento in un secondo video, ma insomma questo è un disagio iniziale che va preso in considerazione. Un secondo tipo di disagio che va preso in considerazione è legato al fatto che le forze ortodontiche, d'altronde l'apparecchio ha uno scopo, che è quello di applicare delle forze per ottenere uno spostamento, e queste forze indolenziscono i nostri denti. Quindi i denti del paziente saranno più sensibili e questa sensazione all'inizio sarà una nuova sensazione a cui noi dovremmo adattarci gradualmente. Un terzo tipo di disagio, se vogliamo chiamarlo disagio, ne abbiamo parlato anche in precedenti video, è che la vigilanza dell'igiene orale deve diventare estremamente scrupolosa. Quindi dovrebbe essere normale e sacrosanto così per tutti, ma un'igiene orale, scrupolosa, attenta e precisa è l'unica maniera con cui noi possiamo evitare la formazione di carie e che la cura con l'apparecchio mantenga i nostri tessuti in salute.